tentativo di everesting non farò mai più un po di figa qua buongiorno a tutti ci troviamo qui in località torre dei rovi per cominciare la nuova avventura tentativo di everesting sulla salita qui vicino adiacente collo di pasta fino a completare un'ascesa di 8.848 metri pari all'altitudine del monte Everest dovrò effettuare circa 60 ascese sono le 4.37 di sabato 7 settembre 2024 a dopo la nuova avventura non Quasi 3000 metri, siamo un terzo del risultato finale, del ambito risultato finale. Siamo a metà, 4.444 metri fatti, scalati, ne mancano 4.444. In diretta da Gay Club. Everesting, Dario sul col di pasta e la maffiga. Van Berto, se non sommati non li vogliamo. Siamo a 5.191, se volete passare di qua lo trovate fino a domani mattina. No, prima finisce. Sotto, dai. Banana time, banana. È matto Dario. No, tutto regolare, figa, vada là. Tor de Roer. È di nuovo buio, sempre c'è quello di pasta. Siamo a 5.800 metri di stilello. È di nuovo buio. Cosa mi sussurrerà la notte. Ragazzi, ci siamo. Ultima scesa. Ultima. Scendo, risalgo, ho finito. A dopo. Come promesso, anche questa sfida è stata portata a termine. col di pasta Torre dei Roveri, effettuato 60 scalate per un totale di 9.100 metri di dislivello. 270 chilometri e 20 ore di totale di attività. Da Torre dei Roveri, col di pasta che non farò mai più. È tutto. Per chi è il beste contatto. Seguono. � EVERYBEC resources, gli abetti Sarge. Attraff Lem chordaaa ilровaggio Karl! prescription. Pedagol райone. Compritazioni. Sono che Τero, piano, Grazie a tutti.